Tariffa puntuale e servizi porta a porta. Sono parole che oggi, per ogni soggetto che opera nella filiera degli rifiuti solidi urbani, rappresentano degli obiettivi futuri da raggiungere, ma soprattutto delle eminenti decisioni da prendere per capire come poter adeguare le proprie tariffe o come poter riconoscere dei meccanismi premiati per l'utenza virtuosa. Vi invitiamo il 3 di luglio a Marzala, nel bellissimo complesso monumentale di San Pietro, per poter condividere insieme come potrete raggiungere i vostri obiettivi, ma soprattutto già come potete trasformare la mole di dati che ricevete da chi esegue il servizio in sintetiche informazioni per voi che dovete prendere delle decisioni. È un'opportunità per poter incontrare chi da più di 10 anni ha già affrontato queste situazioni e chi, come noi, Computer Solutions, siamo partner nell'esecuzione di progetti di questo tipo. Quindi, 3 di luglio a Marzala. Vi aspettiamo! Grazie a tutti!